dopo sei ore e mezza di camminata distruttiva non ho parole per spiegarvi dove sono vi faccio solamente un video guarda che vado sulla caresta proprio ok guarda che strafiumbo che spettacolo il video parla da solo tutto santo stefano i monti che ho fatto stamattina il bue il maggior asca da lontano guardate sotto le tug life estreme sui monti e là c'è la vetta finale dopo